Per sabato 29 e domenica 30 gennaio, gli ultimi due giorni di apertura delle mostre dedicate a Corrado Cagli e a Jim Goldberg, l'amministrazione comunale ha deciso di prolungare l'apertura fino alle ore 22. Inoltre, per tutti i visitatori, è in programma anche una piacevole sorpresa per celebrare la calata di Sipario su questo importante doppio evento culturale che ha inaugurato l'apertura di Parco, nel Parco Galvani, e Parco 2 in via Bertossi. La mostra, Corrado Cagli e suo magistero, mezzo secolo di arte italiana, dalla scuola romana all'astrattismo, allestita nella Galleria d'Arte Armando Pizzinato, mette in risalto la polivalenza culturale di Corrado Cagli, uno fra i più importanti artisti italiani del Novecento, che ebbe grande risonanza anche a livello internazionale. Ancora due giorni dunque per apprezzare l'importante esposizione costituita da un'ottantina di opere tra pitture, disegni, scenografie e costumi di teatro, ma anche per confrontare la produzione di Cagli con quelle di altri artisti che entrarono in rapporto con lui. Il prolungamento dell'orario di apertura fino alle 22 varrà anche per la mostra fotografica di Jim Goldberg, ospitata negli spazi espositivi di Parco 2 in via Bertossi, dove oltre 300 foto, video, oggetti, testimoniano le principali tappe della carriera artistica del fotografo statunitense. L'esposizione è una produzione del comune di Pordenone, assessorato alla cultura e Magnum Photos di Parigi ed è patrocinata dal Consolato Generale degli Stati Uniti d'America a Milano.